Siccome dovete campare con la paura, con l'ansia, allora come si fa? Eh, si usano i mezzi, si dice utilizzare la stampa per la propaganda al fine di controllare tutti i punti di uscita di informazione al pubblico pur rimanendo nell'ombra e liberi da colpa. Cioè tutte queste ansie che vi fanno venire sono fatte attraverso un organo che si chiama stampa, che siano giornali, che sia internet, che sia la televisione, che è quella ancora più guardata, eccetera, eccetera, da cui tutti quanti si abbeverano e tutti i canali che abbiamo in Italia sono tutti preposti a gettarvi questo veleno che tutti i giorni, come una dose neopatica, tutti i giorni assorbiamo, assorbiamo e la gente non campa felice, campa preoccupata perché è in giro, c'è la guerra come se non ci fosse mai stata. Le guerre ci sono da una vita, però quando il mainstream ha interesse a focalizzarsi su una cosa, ecco ve la fa vedere dalla mattina alla sera, la guerra. Quando invece non gli interessa, boh, perché c'è una guerra, ma no, ma non è niente. Funziona così, funziona. Perché non vi fa vedere che cosa succede nei paesi dell'Africa? Tipo il Congo, la Nigeria, il Burkina Faso, perché non ha interesse, perché là si stanno ribellando. Dopo Sabina vi farà vedere un video molto interessante a tal proposito. Allora, quello che dobbiamo capire è che l'obiettivo, con la scusa di quella che è stata l'emergenza o le emergenze, perché sono tutte emergenze, possono essere sanitarie, climatiche, ecologiche, chi più ne ha più ne metta, servono soltanto per mantenere un clima di paura, di terrore, di ansia, così voi state male, perché vogliono che voi stiate male, non siate felici e nel momento in cui andate verso, vi incamminate verso la depressione, è ancora più facile controllarvi e farvi fare quello che il potere ha desiderio di farvi fare. Basta solo che vi guardiate intorno, che facciate un'atomo, un'analisi di quello che è successo in questi anni, ma ancora prima dei tre anni vissuti, ancora prima, guardate, vi ricordate quando c'era Berlusconi, lo spread, lo spread, perché adesso lo spread non c'è più, cioè prima l'Italia era nello sprofondo economico-finanziario, poi per magia si è risollevata e è ritornata a galla, quando gli farà comodo ritorneranno ancora con l'emergenza economica, la finanza, è il debito pubblico, aspettatevelo, non siate sorpresi da questo, sono tutte cose che vengono utilizzate, perché tanto il pubblico non capisce questo tipo di meccanismi, questo tipo di armi e queste le utilizzano, finché la gente ci crede, loro vanno avanti, quando la gente smetterà di crederci e la prova sarà quando ci sarà la chiamata ai seggi elettorali maramao ce ne stiamo a casa, allora sarà il segnale che ci avete definitivamente stufato voi burattini, tanti cominciamo da voi burattini che siete più vicini, così mandiamo il messaggio anche ai vostri padroni, perché anche i vostri padroni che fanno tanti ganzi ma viaggiano sempre nell'ombra, non mostrano mai la faccia, così gli arriva il segnale perché come tirano fuori il naso glielo tagliamo il naso, quindi siccome sono topi da fogna nella fogna devono stare, ma mandano voi burattini a fare delle cose che interessano a loro, ma sempre perché il popolo, e ritorniamo al titolo di oggi, l'Europa è il popolo sovrano, guardate che il popolo è il popolo sovrano, i trattati non sono eterni, i trattati possono essere anche presi e stracciati, io vi ricordo sempre, guarda glielo puoi leggere il secondo coma dell'articolo 11, vedete cosa dice, è quello che dovete capire che i trattati non sono eterni, non avete fatto un contratto con Dio, è un contratto fra esseri umani, leggigli un po' il secondo coma. Allora da qui consente vero? Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Consente a limitazioni a parità di condizioni, ve l'abbiamo detto ancora, Sabi ti ricorda, l'abbiamo detto ancora, ma fa sempre bene ripetere e ricordare, ha limitazioni. Perché allora sentiamo dei capi di Stato, sentiamo dei capi di governo che dicono che dobbiamo cedere ulteriore sovranità, non dobbiamo cedere, anzi dobbiamo riappropriarci di tutta quella che ci è stata portata via, che è tanta, perché in questi 40 anni ce ne hanno portata via tante, quindi intanto dovremmo riappropriarci di quella sovranità e quando concediamo delle limitazioni dobbiamo guardare bene come vengono fatti gli accordi, come vengono fatti i trattati, perché se è una cosa che è paritaria, che non ci danneggia e non danneggiamo gli altri, possiamo discuterne, possiamo anche firmarli, ma se questa cosa ci danneggia non siamo mica obbligati a firmarli i trattati e non siamo neanche obbligati a rimanere dentro ai trattati se ci danneggiano, perché se qualcuno ancora mi vuole dire o ci vuole scrivere in questo momento o vuole fare delle domande magari per la prossima volta sui vantaggi che ci ha dato l'Europa, l'Europa se ce lo dite non ci sono vantaggi, per il momento ci sono solo svantaggi, c'è soltanto miseria, lo sapete ad esempio l'ultima cosa che praticamente l'Unione Europea per il 2024 ha detto che la pianura padana e la Puglia non devono coltivare grano e mais, quindi ci dite anche che cosa dobbiamo piantare, cosa non dobbiamo piantare, se dobbiamo raccogliere il pomodoro anziché la cipolla, se dobbiamo mangiarci un pesto di pane duro, l'Europa ci dice tutto questo, ma noi voglio dire cosa ci stiamo a fare qua, che popolo siamo, perché se noi qua, perché poi in questi giorni si semina il grano, se noi in questi giorni non seminiamo il grano in pianura padano, non seminiamo il grano in Puglia, perché ce lo dice l'Europa, cosa facciamo quest'altro anno? Andiamo a mangiare a casa della von der Leyen? O andiamo con la manina, ci dai un pochino di farina perché dobbiamo fare il pane? Ci vogliamo davvero ridurre queste condizioni qui? Lo capite che l'Europa è un mostro giuridico che sono 30 anni che ci sta distruggendo, dal 1992 quando abbiamo firmato il trattato di Maastricht ed è entrato in vigore nel 93 e dieci anni dopo abbiamo avuto la grande monetona che ci ha dato il colpo di grazia. Allora, se abbiamo rimasto ancora un pelino di orgoglio, un pelino di intelligenza, dovremmo dire adesso basta, adesso ci siamo stufati, perché queste elite non fanno altro che fomentare guerre, perché se andiamo a vedere chi è che fomenta la guerra là, praticamente Maastricht è stato finanziato anche dagli israeliani, quindi praticamente se la cantano e se la suonano. Vi do solo un dato giusto per farvi capire come funziona. Dopo se vuoi dire qualcosa tu Sabina. Allora, sapete che sorvolare i cieli di Israele sono nominati da chi si occupa di cose militari, la cupola di ferro, la cupola di ferro non vola una mosca che non sia intercettata dai radar, perché Israele è praticamente una zona militarizzata, non entra uno spillo se non è controllato dai militari. Quindi voi mi volete venire a convincere che quattro sbandati sono andati là a fare la strage che hanno fatto, deprecabile, condannabile, a praticamente sequestrare persone, ammazzare persone, così improvvisamente. Addirittura sono arrivati con deltaplani, con cose dove sopra quei cieli lì non vola una mosca. Mi volete dire che, mi volete dire che la grande nazione più militarizzata del mondo non si accorta che praticamente, mi ricordo un pochino la storia dell'Ettore Gemmaio, quando per ore si sono persi degli aerei di linea, così, neanche fossero dei moscerini, tu ti perdi quattro aerei di linea, ma boh, dove sono andati? Non lo so. Quindi questi sono arrivati dall'alto, sono arrivati anche da terra, hanno portato via gente, non se ne è accorto nessuno. O forse è una scusa per poter fare quello che stanno facendo. È forse una scusa per fare quello che stanno facendo, perché poi vengono fuori documenti che anche Netanyahu era in qualche modo collegato o ha avuto dei vantaggi con Hamas. Quindi chi siete esattamente? Chi siete esattamente? Allora, voi capite che ci sono troppe analogie. Il potere fa queste cose qui, non gliene frega niente di chi deve, di chi deve sterminare, non gli interessa nulla. Chi è sacrificato in quel momento? Ma cosa gliene frega? Allora, voi capite? Poi chiudo poi questo cosa qui, perché tanto questa è una distrazione di massa, siccome la Russia ha vinto la guerra in Ucraina, allora per non dire... Non se ne può parlare. Non se ne può parlare. Allora praticamente si sono inventati un'altra puttanata, adesso vi fanno scandalizzare, vi fanno schifare con la strage dei palestinesi, perché qui... Ora, si può sapere perché anche nelle nazioni democratiche non hanno mai riconosciuto lo stato della Palestina. Siamo democratici, noi esportiamo la democrazia, quelli erano lì, poi nel 48 sono arrivati questi qua che hanno detto adesso noi ci prendiamo una fetta di terreno e voi praticamente fate i nostri servi. E quella la democrazia? Poi quando per decenni la Palestina ha sempre chiesto di essere riconosciuta dall'ONU, dalla grande organizzazione delle Nazioni Unite, non è mai stata riconosciuta con i vetti soprattutto di Israele, dell'Occidente, dell'America, della NAP, eccetera eccetera. Quindi allora, cioè voi capite che un pochino... Bisogna un po' smettere di fare la NAN, ma questi strumenti servono per farvi stare preoccupati, perché quando sarà finita questa cosa qui, perché prima o poi questa cosa... Ne se ne inventeranno un'altra, perché voi stiate preoccupati, perché lo sapete che se entro il 30 di novembre, non viene ratificato, cioè non viene modificato, contestato nulla su quello che è l'abbattimento dei diritti delle nazioni per quanto riguarda la dignità dell'uomo, l'OMS prenderà in mano tutto. Quindi ci faranno ripreoccupare con un'altra pancemezza, con altri virus che gireranno da tutte le parti, perché loro lo sanno già che arriveranno? Cioè riusciamo a mettere insieme tutti quanti i puntini? Vi spostano sempre, guardate bene, vi spostano sempre l'obiettivo, l'attenzione, dove vogliono loro. Preoccupazioni, le guerre, poi adesso se non devi coltivare, ah ma la fame, poi ci sarà il debito pubblico, ma poi qui, ma poi... Lo capite? Finché questo sistema non capiamo di doverlo smantellare, siamo sempre sotto pressione.